UGM, UIL, FIM, FISMIC e l'Associazione Quadri protestano contro la FIAT in merito alla procedura di mobilità prevista per 19 dipendenti di Pomigliano, che dovrebbero far posto ad un analogo numero di iscritti alla FIOM e chiedono la convocazione di un incontro immediato tra i sindacati e l'azienda. Le loro richieste sono state avanzate in occasione della riunione sul contratto del gruppo all'Unione Industriale di Torino. Abbiamo sottoscritto l'accordo di Pomigliano con l'obiettivo di salvaguardare tutti i livelli occupazionali, tanto che la FIAT si è impegnata a riassumere tutti i lavoratori entro il 2013. Per questo non possiamo accettare il provvedimento annunciato nei giorni scorsi. Si chiede all'azienda di fare un passo indietro. Queste le dichiarazioni di Ferdinando Iuliano, responsabile auto della FIM CISL, che ha partecipato all'incontro di Torino sul contratto del gruppo FIAT e aggiunge ancora, auspichiamo che questa conflittualità si esaurisca perché diversamente non si fa che danneggiare chi è già dentro la fabbrica e chi è ancora fuori. Anche Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, chiede alla FIAT di ritornare sui suoi passi. O la FIAT ritira i 19 licenziamenti a Pomigliano o faremo ricorsi. Le sentenze si rispettano e non si discutono, ha dichiarato, e ribadisce che la soluzione è aprire una trattativa vera.